Bene, buonasera, buonasera a tutti, un saluto ovviamente. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, insomma, vedo che lentamente la pratica si sta componendo, anche se stiamo sempre molto lontani dal numero complessivo dei nostri iscritti, ma insomma questo fa parte della difficoltà del momento, insomma. Vediamo di andare avanti stasera e apriamo il settimo modulo che abbiamo chiamato una prova difficile per la democrazia e ci sembrava doveroso partire in questa riflessione da quello che è accaduto negli Stati Uniti, insomma. I quattro anni di Trump resi indimenticabili da quella vicenda che rientrerà nella storia, insomma l'assalto a Capitol Hill, sarà indimenticabile le scene che hanno comportato, poi un assalto a Capitol Hill guidato dal presidente ancora in carica, insomma una vicenda francamente enorme, enorme che è accaduta e che ha fatto seguito a tutta una dinamica particolarissima che non possiamo dimenticare. Non possiamo dimenticare e adesso dobbiamo ragionare attentamente, capire che cosa ha voluto dire e anche capire che cosa resta di quella vicenda, perché ragionare come se questa fosse chiusa completamente mi sembra un azzardo. Ecco, questo è un po' la ragione, perché abbiamo posto questa questione con forza nella discussione e vogliamo aprire con questo la riflessione di problemi della nostra democrazia e abbiamo con noi un studioso che pare è avuto altre volte in Casa della Cultura, io non posso che ringraziarlo di cuore sempre per la sua disponibilità, insomma è un profondissimo conoscitore del mondo americano e quindi mi sembra giusto, doveroso discutere con lui. Professor Romero, io la ringrazio tantissimo per essere qui ancora e do la parola a lei. Grazie a voi, grazie a voi, mi fa piacere discutere insieme. Dunque, io toccherò diciamo cinque aree di questo populismo di Trump, dell'eredità che ci ha lasciato e in qualche modo anche dei processi che si stanno mettendo in moto in risposta a questo quadriennio. La prima area riguarda le origini del fenomeno, il radicamento di questo populismo, una seconda riguarda la presidenza, cioè quello che Trump e i repubblicani hanno fatto in quei quattro anni, le politiche se volete, una terza riguarda la comunicazione, l'ideologia, l'immagine e poi veniamo più al post-Trump, e cioè quello che a me sembra un profondo cambio di paradigma che l'amministrazione Biden sta innescando per quel che riguarda la storia del Partito Democratico, ma del Paese più in generale, e poi vorrei toccare alla fine una questione forse più vicina a noi che è quella degli scenari internazionali che si prospettano. Ora, cominciando dalle origini del fenomeno e dal suo radicamento sociale, abbiamo imparato molto, molto più di quel che le analisi delle elezioni del 2016 ci avevano detto, da studi condotti, studi, sondaggi, indagini condotte nel quadriennio e poi dal congiungere l'analisi delle elezioni del 2020 con quella del 2016. e la cosa fondamentale è di uscire, perché si è dimostrata sostanzialmente fasulla, da quella formula con cui fu interpretata negli Stati Uniti, ma molto anche qui, l'elezione di Trump del 2016, cioè Trump che cattura il voto operaio, ricorderete, il partito repubblicano che si fa partito della working class. Ora, questa è stata una nozione largamente falsa, che aveva una piccolissima base nel fatto che una porzione minuscola di voto popolare si era spostato in due o tre Stati chiave, ed era quello che aveva dato la vittoria a Trump e la sconflitta a Clinton. E siccome questi erano stati industriali, sì, con una specie di automatismo si attribuì questo passaggio di voti come un passaggio di voti del mondo operaio. In realtà il mondo operaio negli Stati Uniti è ormai una entità minuscola, meno del 7-8% del mondo del lavoro, intendo il mondo operaio industriale, che sì, è concentrato in alcuni stati, ma è anche frazionato. Una parte conserva ancora una tradizione sia sindacale che democratica, anche se questa è molto, molto declinata. una parte tende a identificarsi più su forme di identità culturale o razziale. Però se uno fa un'analisi attenta, diciamo, del corpo complessivo, del corpaccione dell'elettorato di Trump nel 2016, poi nel 2020, che come sapete ha oscillato tra il 48-49% nel 2016 e il 46-47% nel 2020, in realtà è un elettorato fatto di componenti ben diverse, fatto sostanzialmente dal congiungersi, dal matrimonio, se volete, del tradizionale elettorato repubblicano, cioè ceti medio-alti per reddito, in parte per collocazione professionale, dal mondo del business al mondo delle professioni, questo era l'elettorato del Partito Repubblicano nelle generazioni precedenti, con spezzoni di elettorato più popolare, diffuso soprattutto nelle aree non metropolitane del paese, nelle aree rurali, provinciali, piccole città, aree, diciamo, più marginali nella percezione collettiva, fondamentalmente bianchi, quasi esclusivamente bianchi, per appartenenza, diciamo, etnica e raziale, e collegati tra loro, diciamo, cementati da un collante molto forte, che tutte le indagini hanno visto e percepito in maniera molto forte, cioè persone che vivono in comunità, sia il piccolo paese, la cittadina, alcune aree anche delle zone metropolitane, in cui percepiscono un forte rischio, o perlomeno esprimono una forte paura, di trasformazione della loro comunità, del loro mondo sociale, irreversibile, in cui loro perderebbero prerogative che avevano e che li definivano. E dentro a questa formula generalmente si cela, e non è neanche tanto nascosta, innanzitutto una identità razziale. La grande paura che molti teorici della destra americana esprimono è che il sorpasso che prima o poi avverrà tra l'insieme delle minoranze etniche e la maggioranza bianca, che tra qualche anno non sarà più maggioranza, si traduca in una trasformazione radicale, esistenziale della società americana, che questi ceti bianchi temono come un declino, una perdita di proprie prerogative, in maniera sentita con grande angoscia, con grande paura. Se proviamo a addentrarci nei dettagli, gli indicatori che definiscono l'elettorato di Trump non sono quelli del reddito, anzi, gli elettori di Trump nel loro complesso tendono ad avere redditi mediamente più alti dell'elettorato democratico nel suo complesso. Si è fatta una grande polemica, Trump e i suoi hanno fatto una grande polemica sulle elite liberali, elite culturali, elite del denaro, nelle grandi città come il loro avversario, ma in realtà, anche se questo in parte corrisponde a un spicchio di elettorato democratico, il grosso dell'elettorato democratico è dato da minoranze etniche e anche nei settori bianchi, popolazione con livelli di reddito medio-basso. Quindi l'indicatore reddito non è quello discriminante e comunque l'elettore repubblicano mediamente ha redditi più alti dell'elettorato democratico. L'indicatore più fedele riguarda i tassi di istruzione. L'elettorato popolare di Trump generalmente si distingue per tassi di istruzione più bassi. Pochi tra quelli che hanno i tassi di istruzione più alti, laureati, dottorati, eccetera, molti quelli che non arrivano alla media superiore, che tendenzialmente corrisponde come livello di scolarità alla licenza media da noi. Un altro indicatore molto forte è persone che hanno attività impropria. Il piccolo imprenditore, il negoziante, il commerciante, cioè quello che nel gergo italiano noi chiamiamo le partite IVA. Le partite IVA, che naturalmente negli Stati Uniti sono un'altra cosa, non sono partite IVA, hanno un diverso statuto, diciamo, fiscale e sociale, però questo corpo, diciamo, di popolazione che ha piccole imprese o lavora per piccole imprese, appunto su un territorio abbastanza distribuito e provinciale più che metropolitano, sono la parte cospicua dell'elettorato di Trump e forse la parte più, diciamo, fedele, più legata all'ex presidente, alla sua immagine della società americana. E come dicevo prima, il terzo indicatore fondamentale è la grande concentrazione in comunità, città, quartieri, pontee, in cui si teme fortemente che la identità bianca, provinciale, fortemente religiosa, spesso evangelica, è legata appunto a professioni e impieghi nel tessuto di aziende medio-piccole rischi di sparire o rischi di essere soverchiata dall'America più tecnologicamente moderna, più metropolitana, più diversificata dal punto di vista razziale ed etnico, che questo tipo di elettorato vede come il grande fantasma, diciamo, del futuro. E come saprete, perché avrete seguito insomma gli slogan, il gergo, il linguaggio di Trump, su questo Trump e i suoi hanno giocato abbondantemente, non nel raffigurare una o cospirazione dell'elite per spossessare gli americani più genuini della loro identità, o uno sforzo di minoranze culturali per negare la tradizione americana, la tradizione nazionale, o altre varie forme di, diciamo, attentato a quei simboli della vita americana bianca di provincia che ne costituiscono aspetti simbolici dell'identità molto forte. Il possesso delle armi e la libertà di possedere armi, l'identificazione con una società bianca in cui le minoranze etniche restano ai margini e soprattutto con un grado di sottomissione implicito ma indiscutibile, una prevalenza a volte sentita, a volte puramente formale, di una auto-identificazione come cristiani e infine una fortissima identificazione nell'idea di una famiglia tradizionale fortemente patriarcale a dominio maschile come entità non solo diciamo sociologica di base ma come entità morale pressoché unica se non predominante. Questi sono diciamo i parametri e le componenti di una identità se vogliamo chiamarla così dell'elettorato trumpiano cosa che spiega per esempio alcuni dei grandi paradossi il fatto che le chiese evangeliche che si nutrono di moralizzazione sono state in grado di sostenere un personaggio dalla moralità palesemente dubbia come Trump senza sentire alcuna forma di contraddizione in questo proprio perché vedevano in Trump il difensore di questa America bianca cristiana minacciata da quella costellazione diciamo di nemici di angosce di cui parlavo prima questo diciamo il popolo di Trump se vogliamo usare il loro linguaggio seconda area cosa hanno fatto Trump e i suoi una volta alla Casa Bianca Trump aveva fatto una campagna dicendo dobbiamo ricostituire l'America industriale dobbiamo rilanciare l'industria e l'occupazione dell'industria dobbiamo investire nelle infrastrutture dobbiamo ritrovare un equilibrio economico nazionale che favorisca appunto questo popolo americano negletto o oppresso da elite di varia fatta quello che si è visto è stata viceversa una strategia delle politiche molto simile a quella repubblicana tradizionale Trump ha fatto una sola cosa cospicua in termini di politica economica cioè una massiccia riduzione delle tasse sulle grandi aziende sui redditi più alti come misura di stimolo dell'economia non ha fatto alcunché invece del tipo di promesse che aveva fatto di prendersi cura delle condizioni materiali economiche dell'America più popolare quindi da quel punto di vista lì la tradizionale politica repubblicana molto vicina al mondo del business in particolare la grande impresa è fondata sulla teoria che mettendo più soldi in tasca alle aziende soprattutto grandi e ai ceti più alti questi faranno investimenti e gli investimenti produrranno automaticamente occupazione e crescita cioè la stessa diciamo teoria e pratica politica che i repubblicani hanno perseguito dall'epoca di Reagan negli anni ottanta in poi che hanno trasformato diciamo in una ortodossia molto molto forte viceversa sulla retorica che la politica non lo Stato perché lo Stato non è mai stato un termine usato da Trump ma la politica la Casa Bianca il Presidente sarebbero intervenuti a favore dei ceti più popolari qui non si è visto nulla proprio zero cosa ha fatto invece Trump a fianco di questa politica economica favorevole alle imprese ai ceti più con redditi più alti ha fatto sostanzialmente un'operazione di politica culturale e cioè ha spinto in tutti i modi possibili con una non piccola abilità sul tasto di quella che negli Stati Uniti ormai viene comunemente chiamata la guerra culturale che è appunto la contrapposizione ormai in atto tra due percezioni visioni idee del paese radicalmente diverse polarmente diverse che si identificano se vogliamo in destra e sinistra in termini politici in repubblicani democratici ma che vengono giocate molto meno in termini politici e molto più in termini culturali cioè per un verso quella che si autoraffigura come l'America tradizionale l'America bianca quella che è sintetizzata nello slogan di Trump rendere l'America di nuovo grande che allude ovviamente rimanda ad un passato che ciascuno può collocare a seconda della sua fantasia e della sua età naturalmente negli anni cinquanta o negli anni di Reagan ma comunque in anni in cui la nozione di un paese a supremazia bianca in cui le minoranze etniche avevano un posto e una collocazione diciamo satellitare certo non centrale una forma di subordinazione cospicua fosse dominante questo è stato il tasto principale il leitmotiv il continuo ritornello di tutti gli interventi di Trump di tutta quella sua comunicazione assolutamente bulimica inarrestabile fatta su tweet su comunicati su apparizioni televisive eccetera eccetera cioè questa contrapposizione tra un'America che si autodefinisce genuina e tradizionale appunto ancorata a valori della famiglia tradizionale dell'auto identificazione come cristiani e come bianchi soprattutto contrapposta a un altro paese che si viene dipinto come un'escolanza di elite culturali prima ancora che politiche di movimenti femministi gay o nell'ultima fase di black life matters movimenti razziali che in qualche modo congiurano contro questa identità tradizionale americana sempre più sotto sotto assedio questa è stata la grande leva del discorso di Trump e del cemento con cui Trump ha prima costruito e poi tenuto insieme questa sua non maggioranza perché non è mai stata maggioranza ma questa minoranza molto cospicua che si avvicina al 50% e che gli ha dato prima la presidenza e poi il sostegno che abbiamo visto fino all'ultimo giorno terzo aspetto delle politiche perseguite qui più dai repubblicani che non da Trump in persona è un aspetto istituzionale però molto importante e cioè il fatto che sapendo di essere una minoranza elettorale i repubblicani non hanno più avuto la maggioranza per esempio nelle elezioni presidenziali se non una volta negli ultimi trent'anni hanno vinto due volte come sapete pur avendo il candidato con meno voti generalmente il candidato democratico ottiene più voti nazionalmente e i candidati democratici alla Camera dei rappresentanti dove c'è l'elettorato più rappresentativo hanno sempre la maggioranza numerica che raramente si traduce in una maggioranza di seggi però da questa realtà sul campo dovuto a come è strutturata istituzionalmente la federazione americana cioè un senato in cui ci sono due rappresentanti per ogni stato indipendentemente dalla quantità di popolazione un collegio elettorale che legge il presidente il quale anche questo è rapportato ai singoli stati più che nell'elettorato complessivo fanno sì che è possibile vincere le elezioni sia al congresso sia per la Casa Bianca con una minoranza dei voti ehm questo che fino a qualche anno fa era considerato una possibilità e non veniva mai elaborata esplicitamente negli ultimi anni ha cominciato a venire teorizzata oggi ci sono eh sondaggisti e studiosi dell'elettorato di parte repubblicana che teorizzano molto esplicitamente la nozione di un governo di minoranza cioè che la nazione americana la società americana deve essere governata eh non dalla maggioranza ma da una minoranza per quanto molto cospicua appunto al momento diciamo si aggira intorno al 45 46 47 per cento e facendo leva sui i poteri istituzionali che il mondo repubblicano e conservatore ha nel senato in molti degli stati dove governano eh attraverso la grande presenza di conservatori nei tribunali nelle corti stanno costruendo hanno costruito nel corso degli anni di Trump e stanno facendo adesso ancora più sistematicamente un eh percorso che li porti a eh delimitare il diritto di voto questa è diventata la grande frontiera che noi abbiamo visto in azione nella campagna elettorale durante le elezioni la grande polemica repubblicana e soprattutto di Trump contro il voto per posta contro il voto anticipato contro il voto quando le forme di identificazione dell'elettore erano eh per loro diciamo considerate poco chiare e che ora stanno trasformando in una serie di eh leggi dove riescono a farle passare negli stati dove riescono a farle passare che mirano molto esplicitamente al riduzione dell'elettorato a diminuire la quantità di persone che abbiano diritto di voto o che possano presentarsi al seggio elettorale cosa che viene fatta eh riducendo tutte quelle forme di accesso al voto il voto per posto al voto anticipato il voto che eh lascia la scheda in posti diversi dal seggio elettorale quello elettorale badate non so se qualcuno di voi è mai stato durante le elezioni negli Stati Uniti è un pasticcio colossale cioè non è un sistema elettorale no? è una specie di mega farsa eh fatta di un frazionamento totale tra gli stati tra le contee tra le città dei poteri delle autorità che gestiscono i vari seggi elettorali quindi è abbastanza facile intervenire a manipolarlo non nel suo complesso nessuno è in grado di controllarlo e manipolarlo nel suo complesso ma intervenire su molte scale locali per disincentivare l'accesso al voto renderlo più difficile imponendo appunto una delle restrizioni sulle possibilità di andare al seggio imponendo delle forme di identificazione in un paese in cui le carte di identità ci sono e non ci sono ridiminuendo gli orari i momenti eh tutto questo con l'idea che queste restrizioni al voto influiscano molto di più sulle persone che eh classicamente voterebbero democratici afroamericani latini i giovani soprattutto cioè quelli che hanno col seggio elettorale un rapporto un po' labile che un anno un po' anno votano tre anni dopo non votano che eh come dire sentono più fortemente questi disincentivi e questa è sicuramente la principale diciamo la principale fronte di battaglia dei repubblicani in quanto partito in quanto legislatori ed il mondo conservatore populista trampriano che cerca di eh come dire approfondire radicare e rendere permanente un eh sistema eh che appunto disincentivi il voto e renda quindi più facile più possibile aritmeticamente quel governo della minoranza la loro minoranza naturalmente che in questo in questo momento diciamo teorizzano e questo è anche quello che spiega il grande tam tam che tutti abbiamo sentito ossessivamente sulle frodi elettorali le frodi elettorali il fantasma delle frodi elettorali eh era eh in primo luogo una arma di Trump per eh come dire delegittimare in anticipo un'eventuale vittoria democratica o comunque il voto democratico poi è diventata la leva su cui costruire l'immagine dell'elezione cosiddetta rubata eh ma al di sotto di queste usi diciamo contingenti è anche l'idea che il sistema elettorale sia un sistema elettorale aperto a frodi perché l'accesso al voto è troppo poco regolato troppo troppo poco disciplinato troppo poco limitato e guardate questa è l'ottanta per cento dell'attività che il Partito Repubblicano sta facendo in questi mesi cioè è il fronte centrale della loro battaglia politica eh che traduce in scelte diciamo istituzionali dove ci riescono dove hanno le maggioranze per farle passare questa idea che eh l'America diciamo genuina bianca cristiana con valori tradizionali sia assediata da una maggioranza molto composita e frastagliata e per loro molto pericolosa e che quindi si debba eh forzare ulteriormente quelle peculiarità istituzionali che già esistono negli Stati Uniti che rendono possibile il governo della minoranza e non della maggioranza e eh la cosa sta arrivando al punto che alcuni appunto non si fanno più scrupoli a teorizzarlo a scrivere eh e a concettualizzare l'idea che eh una democrazia è più sana se è governata da una minoranza coesa e compatta intorno ai valori nazionali che non se si affida alla maggioranza quindi siamo in un universo eh diciamo alternativo in cui una nozione stessa di democrazia assume un carattere eh per noi assolutamente inedito e se volete perverso eh naturalmente perché questa eh tipo di lettura ha una sua forza culturale grande perché pur essendo nuova in termini di teorizzazione in realtà è molto antica se voi ragionate un attimo su quella che è stata la storia americana la storia americana è stata la storia di una società in cui il grande corpo che una volta era maggioritario ora lo diventa sempre meno dell'America bianca governava sopra e spesso contro innanzitutto gli afroamericani prima ancora i nativi americani e poi via via le altre minoranze che si aggiungevano o le ultime ondate migratorie che arrivavano prima che queste fossero assimilate integrate quindi la tradizione diciamo di una democrazia che si definisce innanzitutto per inclusione per un verso ma esclusione dall'altra molto rigida di pezzi della società e della popolazione non è affatto nuova nella storia americana non è affatto innaturale come potrebbe apparire potrebbe apparire a noi e lì sta la sua grande forza così come lì sta questo continuo richiamo ossessivo a rendere l'America di nuovo grande tornare a un passato in cui il linguaggio stesso allude continuamente a un'America in cui una parte del paese governava e l'altra subiva ed è lì che vogliono tornare anche se in forme naturalmente diverse non si sta parlando né della schiavitù né della segregazione legale degli spazi ma si sta parlando di quel controllo del meccanismo elettorale politico che può consentire a una minoranza che si sa che diventerà sempre più minoranza sociologicamente etnicamente di mantenere le redini del potere politico terza area quella della comunicazione o se volete anche dell'ideologia che in qualche modo traduce questo insieme di idee nei messaggi che tutti noi abbiamo visto letto e sentito di Trump in cui cuore il cui centro è l'uso della parola popolo in contrapposizione ad un termine che Trump e i trampiani non usano mai e che invece è il termine distintivo dei democratici o se volete della parte progressista del paese cioè quello di cittadini qui siamo abbastanza vicini anche lessicalmente al tipo di linguaggio che si usa in Italia da parte della destra e da parte della sinistra e non a caso siamo vicini perché l'idea del popolo americano di American people è esattamente l'idea di una comunità che si auto-identifica con la nazione ma che come dicevo prima non comprende l'intera nazione comprende quella parte della nazione che è definita strutturata dall'adesione ai valori per l'appunto la famiglia tradizionale la religione cristiana l'identificazione come bianchi e l'abbraccio di una rappresentanza politica che è stata Trump e il partito repubblicano in una entità unica che si chiama popolo che viene chiamato popolo al quale la parte progressista e in termini politici democratica del paese contrappone l'idea di cittadini uguali con i diritti con le loro diciamo libertà in quanto individui non in quanto comunità che si auto identifica come il popolo americano per questo questa io credo sia la la discriminante fondamentale che spiega anche perché la polemica che tutti noi abbiamo sentito di Trump contro il voto illegale ve la ricordate subito dopo le elezioni il voto illegale ora il voto illegale si è dimostrato ed era chiaro non era il voto esercitato attraverso frodi elettorali che magari da qualche parte ci sono anche state in una direzione come nell'altra ma appunto in quel mare magno che è il sistema elettorale americano nessuno è in grado di fare una froda elettorale diciamo unificata orchestrata perché non esiste un sistema elettorale americano esistono decine di migliaia di sistemi elettorali frammentati sottoposti a poteri autorità diverse che poi vengono conteggiati tutti insieme fino ad arrivare al totale il voto illegale cos'è il voto illegale è il voto contro Trump non era altro il voto illegale Trump lo diceva apertamente io ero in testa e poi sono arrivati tutti questi voti illegali che mi hanno fatto passare al secondo posto in diversi stati è successo questo nella notte elettorale nei giorni successivi e il voto che quindi viene etichettato come illegale è il voto che esprime un'opinione contraria al simbolo di quel popolo americano che rivendica per sé e sente profondamente l'idea di essere l'unico popolo americano circondato e assediato da americani di dubbia e illegittima origine o appartenenza politico-culturale così come è stata una manifestazione di questa grande discriminante popolo da una parte cittadini dall'altra la grande polemica che c'è stata sulle nomine dei giudici il Partito Repubblicano ha costruito un sistema grazie al suo controllo maggioritario del Senato per cui ha esercitato una pratica che è cominciata già negli anni di Obama e ha continuato imperterrita fino a quando hanno potuto per cui gli unici che potevano nominare giudici federali alla Corte Suprema e alle altre corti erano i repubblicani stessi che negarono al Presidente Obama la possibilità costituzionale di nominare giudici negli ultimi mesi della sua presidenza sostenendo che i giudici nominano la maggioranza repubblicana che si auto affida al compito di rappresentare questo popolo americano bianco cristiano eccetera in contrapposizione ad un'idea complessiva della nazione dei cittadini naturalmente le manifestazioni di questo popolo quelle che poi abbiamo visto soprattutto nei momenti di mobilitazione della campagna elettorale sono la fedeltà al capo che a questo punto ha di gran lunga travalicato la fedeltà al partito tanto che molti si ritrovano a contrapporre il capo al partito il partito non è sufficiente legato al capo non è sufficientemente obbediente al capo quelli che nel grande litigare post elettorale non seguivano fino in fondo l'assalto di Trump al risultato del voto venivano dichiarati repubblicani solo a parole e rapidamente marginalizzati e quello che sta succedendo in questi mesi nei singoli stati nei comitati elettorali nei comitati repubblicani è una grandissima epurazione di tutti quelli che anche di composizione di notevole prestigio che nella nella dramma post elettorale non si sono dimostrati totalmente schierati con Trump e quindi il partito nel suo corpo territoriale sparso nei vari stati sta diventando molto più trampiano di quanto fosse prima perché i trampiani stanno eliminando tutti quelli che trampiani non sono preparando naturalmente il 2024 e naturalmente il culmine di tutto questo cos'è stato? è stato il tentativo di colpo di Stato perché questa è stata l'operazione per quanto maldestra però operazione era di rovesciare il risultato elettorale prima con la polemica e in parte l'azione giudiziaria per invalidare i risultati elettorali in alcuni stati cruciali e poi con la mobilitazione e l'assalto al congresso del 6 gennaio in cui si manifestava in maniera diciamo plastica terribilmente visibile questa contrapposizione tra il popolo americano che sarebbe stato spossessato del suo risultato elettorale da una parte e dall'altra tutta questa pletora di nemici che avrebbero compiuto questo furto elettorale quando tutti sanno e tutti i numeri ci dicono che è stato l'esatto contrario quindi di un colpo di Stato si è trattato di un tentativo di colpo di Stato si è trattato per quanto appunto maldestro un po' da operetta però arrivato fino al l'assalto all'istituzione centrale della Repubblica americana quindi da questo punto di vista l'identificazione anche patriottica di questo popolo americano porta a una frizione così violenta col simbolo della Repubblica stessa che è il congresso questo mi fa pensare però qui siamo nel campo delle supposizioni naturalmente che si giocherà una partita importante sia nelle elezioni che ci saranno tra un anno e mezzo nel 22 le elezioni di medio termine per rinnovare il congresso sia soprattutto nelle elezioni del 24 in cui questo partito repubblicano abbondantemente anche se non totalmente trumpizzato giocherà di nuovo la sua partita e credo che Trump giocherà di nuovo la sua partita anche se cosa sarà Trump tra tre anni dopo non essere più presidente non avere più il megafono continuo della comunicazione quotidiana col suo elettorato nessuno sa cosa sarà perché è chiaro che Trump esiste fin tanto che twitta e comunica quotidianamente quando non comunica Trump è un come dire un emblema ma non è una un ente un'entità viva attiva come è stata nei quattro anni in cui l'abbiamo visto all'opera quindi secondo me qui siamo nel puro campo delle supposizioni però è chiaro che la partita cruciale che si giocherà e se il partito repubblicano diventerà compiutamente completamente questo partito di fatto eversivo della democrazia maggioritaria con Trump a suo capo o chi per esso Trump è anche piuttosto anziano potrebbe venire un cocolone dopo domani ma ne emergerà qualcun altro forse meno efficace di lui comunicativamente ma qualcun altro emergerà o se invece il partito repubblicano io non credo che possa diventare altro però potrebbe sgretolarsi potrebbe perdere di efficacia di capacità di muoversi come questa falange che è stata fino alle elezioni se una parte dell'elettorato lo lascia o si rivela più incerta e se quindi questa minoranza del 45 46% rischia di diventare una minoranza del 40 del 38 del 37 a quel punto lì processi diciamo disgregativi anche nel partito diventerebbero probabilmente difficili da contenere però ripeto qui siamo nel campo delle supposizioni però questa è la partita del futuro se il fronte repubblicano e conservatore si mantiene unificato con Trump e sotto Trump oppure se diversi motivi di tensione di insoddisfazione di insuccesso lo portano a disgregarsi un po' io non credo all'idea che il partito repubblicano possa tornare a essere quello che era 10-20 anni fa questo è fuori discussione cioè il fenomeno Trump e il fenomeno sociale che lo sostiene è troppo grande è troppo ormai incorporato in quello che una volta era il partito repubblicano per esserne espulso questo non succederà di sicuro quello che succederà appunto io credo siano due ipotesi o che Trump e il suo populismo mantengono e anzi perfezionano il controllo del partito repubblicano e vanno alle elezioni come tali o che il partito repubblicano comincia a sfrangiarsi a perdere consensi restando sostanzialmente trampiano ma senza quell'aura di successo di avanzamento che poteva ancora avere questo è quello che secondo me vedremo nei prossimi tre anni non poco di questo dipende anche da cosa succede adesso in questi mesi e qui arriviamo al quarto punto che volevo toccare cioè cosa sta facendo Biden perché questo io credo sia molto interessante Biden sembrerebbe essere arrivata alla Casa Bianca per caso ma in realtà ci è arrivato abbastanza intelligentemente giocando come questa figura moderata e tranquilla di contro all'esagitazione di Trump ma ci è arrivata anche evidentemente con una serie di idee molto chiare che ora sta mettendo in atto e queste idee sono quelle di andare a intaccare sotto il profilo della efficacia economica dello Stato e delle politiche pubbliche quel senso di disaffezione di vittimismo che tocca una parte non piccola dell'elettorato di Trump io credo che Biden punti al fatto di investire enormi risorse pubbliche nelle infrastrutture nel rilancio anche di pezzi della dell'economia nazionale di industrie sostenute indirettamente ma cospicuamente dallo Stato siano esse nella sanità nelle nuove tecnologie nel ricomporre dentro gli Stati Uniti alcune filiere produttive che si sono troppo disarticolate in giro per il mondo per lanciare una crescita economica molto veloce molto intensa ma anche una crescita economica in cui parte cospicua di queste risorse per la prima volta da 50 anni tornano a essere indirizzate verso i ceti popolari che più hanno subito tutte le dislocazioni diciamo della globalizzazione degli ultimi 30 anni oltre a mirare a investire fortemente sui giovani sulle donne e quindi anche qui cercare di far percepire attivamente non solo in termini simbolici ma in termini materiali cospicui da una gran parte della cittadinanza statunitense il fatto che lo Stato e le politiche pubbliche possono essere efficaci efficienti e cambiare la vita quotidiana delle persone dal punto di vista di maggiore occupazione maggiore opportunità maggiore crescita questa è la sua scommessa che si articola per un verso sul controllo della pandemia per un altro su questi massicci programmi di investimento pubblico e di regolamentazione pubblica di alcuni settori industriali da quelli energetici ad altri per rompere quella identificazione negativa che è stata dominante negli Stati Uniti da Reagan in poi cioè l'idea che solo l'impresa privata e il mercato sono attori positivi e lo Stato è un attore per definizione negativa se si rompe questa dicotomia questa è la scommessa di Biden e si dà ai cittadini americani la percezione che lo Stato e le politiche pubbliche possono essere un fattore positivo di cambiamento migliorativo della loro vita lui ritiene che a quel punto una parte dell'elettorato che si identifica per quei paradigmi culturali di cui parlavo prima con Trump e con il populismo trampiano possa cominciare a ragionare anche in altri termini che quindi il blocco elettorale trampiano repubblicano possa essere non disarticolato completamente ma sicuramente intaccato quel tanto che basta per renderlo una minoranza che non può più vincere le elezioni questa se vogliamo è il nocciolo della strategia politica e politica economica di Biden cioè dire agli americani voi siete bianchi come non bianchi voi siete cittadini e non questo popolo mitico trampiano siete cittadini a cui lo Stato può dare opportunità possibilità risorse come non è stato negli ultimi 40 anni e questo io credo è quello che sta facendo è una scommessa perché non è detto che funzioni dal punto di vista degli effetti culturali politici sull'elettorato non è detto che funzioni perché come sapete la sua maggioranza in congresso è molto risicata quindi alcune misure passeranno altri verranno fermate altre verranno annacquate c'è un'abbondanza di fronti di potenziale opposizione che possono insorgire dai tribunali su alcune questioni al mondo del business che sicuramente lotterà con le unghie e con i denti per avere investimenti pubblici ma senza pagarli con tassazione più alta ovviamente al mondo repubblicano che userà i vari tasti che può usare dal pericolo del debito pubblico che cresce al pericolo cosiddetto di uno Stato più invasivo o non efficiente al pericolo che sicuramente torneranno a sventolare di uno Stato intrusivo che limiti le libertà in particolare quella sacralizzata del portare le armi a quant'altro e quindi questo gioco diciamo tra una strategia che si impernia su un'efficacia ed efficienza politico-economica dello Stato come immagine di una cultura pubblica fatta appunto di cittadini e di una repubblica che funzioni che contrasti quell'immagine del popolo bianco cristiano tradizionalista che è se volete l'anima trampiana in questo e finisco sull'ultimo punto è abbastanza evidente e io credo molto preoccupante che Biden abbia sposato l'idea che per fare questa operazione per poterla portare avanti sia in termini di ridislocazione economica di alcune grandi filiere produttive dentro gli Stati Uniti e più slacciate dalla globalizzazione sia in termini di cementare la comunità americana intorno ad un'idea di nazione più condivisa Biden ha sicuramente sposato l'idea di una contrapposizione più antagonistica con la Cina in particolare con la Russia forse ma questo è ancora in dubbio con l'Iran ma comunque con l'idea di un mondo che viene rappresentato come diviso tra grandi poli di potenza che sono tra di loro antagonisti e in cui gli Stati Uniti devono sostenere questo antagonismo anche a costo di infilarsi in una specie di nuova guerra fredda cioè di un'operazione di contrapposizione contenimento della potenza economica tecnologica e al limite militare della Cina in particolare della Russia in secondo ordine come diciamo missione nazionale che ha come ricaduta interna quella di poter giocare una carta di identificazione nazionale più ampia non partigiana non politica ma nazionale nel senso genuino del termine a fronte di un mondo esterno ostile o di una serie di minacce più o meno incarnate da Xi Jinping Putin e quant'altro con una grande differenza naturalmente rispetto a Trump cioè che lui pensa di giocare questa operazione sulla ricostituzione di coalizioni e di alleanze quella occidentale in primo luogo ma anche di una nuova coalizione a cui stanno lavorando tra i paesi dell'area asiatica pacifica che si che sposino insomma questa idea di una contrapposizione alla Cina l'Australia il Giappone la Corea del Sud forse l'India e di verniciare queste due coalizioni quella occidentale tradizionale e questa nuova asiatica come le democrazie contrapposte alle autocrazie di Pechino e di Mosca cosa problematica perché alcuni di questi paesi democratici non sono o tendono a esserlo sempre meno pensiamo all'India perché alcuni degli alleati fondamentali sono tutt'altro che democratici dall'Arabia Saudita all'Egitto a quant'altri perché io credo anche il valore diciamo del discorso dei diritti umani si è molto svalutato nel corso degli ultimi anni e decenni perché è ben più difficile da sostenere da parte degli stessi paesi cosiddetti democratici visto i problemi che abbiamo in casa o visto il fatto che l'emblema di questa democrazia universale ha visto l'assalto al suo congresso senza che il responsabile di questo assalto sia stato punito cioè c'è un elemento diciamo di quegli elementi se volete di ipocrisia o di difficile sostenibilità degli ideali occidentali perché fanno attrito con alcune realtà delle nostre società sono diventati un po' più forti per un verso e per un altro per il fatto questo è indiscutibile ed è forse il problema principale del futuro in questa ottica che i paesi occidentali o se volete le economie avanzate non hanno più quel ruolo centrale nel mondo globale nell'economia globale che avevano 30-40 anni fa è evidente che la Cina in particolare ma la Cina più una serie di altri paesi rappresenta una parte dell'economia mondiale in primo luogo ben misurabile dell'influenza della capacità per esempio di avere voce anche nelle istituzioni internazionali molto maggiore di una volta insomma l'Occidente è meno centrale meno forte di quanto non fosse quindi ricostruire una politica che era tutta basata sulla grande centralità e forza e predominio dell'Occidente può essere saggio può non essere saggio però sicuramente si giocherà in maniere molto diverse da quanto non fosse stato durante la guerra fredda che noi mi sembra quasi tutti noi da quel che vedo delle nostre età abbiamo conosciuto nei decenni passati però questo diciamo è l'altro scenario su cui al momento più che supposizione non si possono fare però è la direzione verso cui andiamo abbastanza abbastanza chiaramente e detto questo io mi fermerei qua e ascolto volentieri i vostri commenti e domande grazie 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 a lei professore davvero francamente è una ricostruzione assai puntuale del trumpismo ed è molto interessante l'ultima parte del suo ragionamento su come sta rispondendo Biden appunto su cui le cose stanno stanno avvenendo insomma quindi è ancora difficile avere categorie interpretative precise diciamo degli spunti di grandissimo interesse vediamo adesso la parola a voi diamo un attimo domande interventi come sempre da parte vostra Dario Marchesi primo che chiede la parola Dario eccolo Dario prego a te la parola prima domanda grazie ma per la verità sono tanti perché l'argomento è molto il momento è vasto è interessantissimo cerco di essere conciso la voce la sento poco mi avvicino nel computer cerco di essere conciso l'origine dell'ideologia che sta alla base del trumpismo cioè la mancanza di risposte e quindi la gente dà risposte attraverso la famosa teoria del complotto e la post verità quindi una verità che mi scostruisco io in funzione del mio del mio bisogno e non perché è vera e questa volevo sapere se anche questa è una parte poi c'era Chomsky che diceva che gli Stati Uniti erano un avevano un partito unico con due correnti con questo cambiamento che c'è stato cioè questa radicalizzazione le differenze diciamo ideologiche sono molto più accentuate oppure sono comunque sempre la visione di base americana e quindi sono sempre i due partiti ma viceversa si stanno veramente differenzando con due visioni diverse di società l'altro è un po' di definizione noi questi fenomeni li chiamiamo populismi io per mia cultura le chiamo l'evoluzione moderna del fascismo perché quello che ha fatto Trump l'ideologia che c'è alla base di Trump è un'ideologia fascista quando delle persone si vogliono differenziare dagli altri sono per me dei fascisti sono stato molto conciso grazie mille grazie Dario professore Romero io raccoglierei anche qualche altro intervento lei che dice sì va bene allora qui c'è Enrico ci sono più Enricchi però qui dentro che l'Enrico che prenda la parola e l'Enrico che si è iscritto grazie mi senti ecco benissimo due considerazioni uno è legato a un criterio interpretativo che volevo un pochino aggiungere rispetto al bellissimo contributo del professor Romeo che è il concetto del protezionismo mi riferisco un po' alla lettura che Polani dà nella sua dizione della grande trasformazione quando dice che il protezionismo è una risposta a la vacuità dei mercati autoregolati quindi mettendola un po' in paragone con la globalizzazione della nostra epoca la risposta protezionistica americana mi ricorda un po' ciò che Polani dice nel suo testo e volevo sapere cosa ne pensava di questo perché gli elementi protezionistici che Trump ha messo in campo nei confronti non solo della Cina ma anche dell'Europa sono stati un elemento importante la seconda considerazione legata a questa è quella degli organismi internazionali perché c'è un problema di crisi notevole di quelli che sono stati gli organismi che hanno tenuto insieme una sorta di multilateralismo su questo volevo capire un po' il passaggio da Trump a Biden devo dire che l'ultima parte del suo intervento che è molto bella e condivido già in parte risponde ma chiederei magari un maggior approfondimento a riguardo grazie mille molto bene grazie domande cominciamo da queste vai cominciamo da queste ma bene professore a lei la parola benissimo sono già come dire devo dire una questione di questo secondo intervento è molto collegata a una del primo sì cioè Chomsky e Polanyi se vogliamo usare i due nomi che sono stati citati io credo che Chomsky io non ho mai condiviso la formulazione di Chomsky un partito diviso in due correnti per definire i repubblicani e i democratici perché lui questo è un'immagine che lui ha costruito intorno all'idea che entrambi i partiti fossero fondamentalmente come dire sottomessi subordinati al mondo del business del del grande capitale se vogliamo usare questi termini e che articolassero un'idea di gestione di una società in cui il business era dominante attraverso poi forme di gestione politica con sfumature diverse ma non essenzialmente diverse io credo che questa fosse un'esagerazione che conteneva un nocciolo di verità cioè che i repubblicani democratici e la gran parte dell'elettorato americano condivideva un'idea di una società fondamentalmente capitalistica e di mercato ma poi rappresentavano ceti diversi li rappresentavano con letture anche diverse con accentuazioni diverse ci sono stati lunghi periodi in particolare dagli anni 30 agli anni 60 in cui il partito democratico era un partito quasi simile a un partito leburista europeo in cui il sostegno dei sindacati del mondo del lavoro era una parte centrale della sua identità come partito mentre i repubblicani erano il partito del business anche nell'immagine nei simboli nel linguaggio eccetera eccetera però è vero che entrambi condividevano una sostanziale accettazione dell'economia di mercato come una realtà non solo immutabile ma che non si vuole mutare ma semplicemente regolamentare un po' di più o un po' di meno e in particolare negli ultimi 30 anni dei 30 anni diciamo di cultura neoliberista di globalizzazione fondata sul mercato e sull'idea appunto del mercato è bene che la regolamentazione pubblica è male i democratici si fossero spostati molto in questa direzione quanto sta cambiando questo anche qui siamo nel mezzo di un processo probabilmente difficile definirlo però è chiaro che un consenso in qualche modo il riflesso automatico intorno all'idea che l'impresa al mercato la competizione sia nei fattori di avanzamento di una società e la regolamentazione pubblica sia una specie di residuo del passato che va contenuto al minimo non direi che si è rotta completamente questa cultura però comincia a fare acqua da molti lati perché ha mostrato con la crisi finanziaria prima con la necessità di lanciarsi su un debito pubblico colossale adesso per la pandemia il crollo di alcuni dei suoi pilastri e soprattutto ha dimostrato e qui il populismo se volete il linguaggio del populismo lo ha reso urgente il fatto che in funzionamento di questa economia di mercato non contenuta non regolata produce effetti socioculturali tali da mettere in pericolo la democrazia no questo è quello che abbiamo visto in tutti i paesi occidentali in alcuni di più in alcuni di meno perché il funzionamento del mercato in questi termini erode il senso di identificazione e inclusione di pezzi cospicui di ceti sociali dei cittadini con l'idea stessa di democrazia di repubblica di comunità fino al punto da innescare quelle forme di non solo di protesta ma proprio di disidentificazione con la comunità democratica che noi stessi abbiamo visto anche in Italia lo vediamo in Europa e l'abbiamo visto in maniera plateale negli Stati Uniti con Trump e con l'assalto con l'assalto al congresso quindi sicuramente c'è un ripensamento di quanto il mercato vada regolato regolato dalla mano pubblica di quanto la mano pubblica debba fare delle scelte anche strategiche di dove investire questa massa colossale di soldi che Trump vuole scusate Biden sta investendo di quale forma di se non protezionismo nel senso tradizionale del termine di controllo del mercato nazionale di alcuni settori industriali fondamentali per il paese vada fatta da parte della mano pubblica da parte dello Stato di quanto il mondo del business vada tassato per pagare questi beni collettivi questi beni pubblici che è esattamente il problema che Biden ha davanti adesso cioè per fare questi colossali progetti di investimento nell'infrastruttura nella sanità nello sviluppo dell'occupazione dei diritti eccetera quanto si tasseranno le aziende i ceti più benestanti quanto si riporta negli Stati Uniti i profitti che vengono registrati in Irlanda o in Lussemburgo altrove e quindi non pagano tasse né in Europa né negli Stati Uniti e in fondo è quello che stiamo facendo anche noi in Europa in varie forme dall'idea di ricostruire una industria sanitaria che sia più o meno autosufficiente che non si ritrovi in braghe di tela come eravamo all'inizio della pandemia che possa produrre vaccini che possa controllare alcune delle filiere tecnologiche essenziali invece di vederle tutte nelle mani o degli Stati Uniti o della Cina eccetera eccetera da questo punto di vista sì c'è un elemento che richiama Polani se volete cioè la critica di quanto il mercato sregolato produca lacerazioni sociali e disaffezione nei confronti della comunità politica che Polani scriveva negli anni 40 ovviamente aveva ben presente quanto la grande crisi avesse favorito l'identificazione di pezzi della società con il nazismo fascismo io capisco perché a noi venga da usare il termine fascismo perché questo fa parte della nostra storia della nostra cultura le versioni di destra il discorso antidemocratico di destra nell'Italia e in una parte cospica dell'Europa è stato fascista ed è per certi aspetti fascista gli Stati Uniti però hanno un'altra tradizione culturale che non ha bisogno del fascismo cioè hanno la tradizione del suprematismo bianco che è una tradizione di governo fortemente autoritaria brutalmente autoritaria nei confronti di chi è fuori dal perimetro della comunità bianca terroristica al limite nei confronti sicuramente degli afroamericani dei nativi americani degli immigrati più recenti nelle loro varie ondate e quindi hanno una tradizione di pensiero in cui pur mantenendo la sua natura democratica la repubblica può esercitare delle forme di autoritarismo anche molto brutali e molto massicce che vanno dal terrorismo vero e proprio nei confronti degli afroamericani linciaggi una volta il tipo di violenza sistematica della polizia che vediamo oggi nelle cronache di tutti i giorni il tipo di marginalizzazione e controllo delle nuove ondate migratorie pian piano che arrivavano adesso quelle latinoamericane ma prima c'erano state quelle asiatiche prima c'erano state quelle europee italiane slave ebrei tedeschi eccetera eccetera quindi c'ha una sua tradizione di autoritarismo che si manifesta spesso e volentieri in quelle forme di intolleranza istituzionalizzata al maccartismo negli anni 50 altri momenti più recenti anche se meno aspri che non ha bisogno diciamo di richiamarsi al fascismo perché appartiene all'universo una tradizione culturale altra in cui però la pulsione autoritaria è ben presente ben strutturata ha una sua storia profonda e ritorna in quelle immagini che abbiamo visto tutti di quei miliziani vestiti da milizie paramilitari non solo quando sono andati all'assalto del congresso ma quando per esempio difendono i simboli della confederazione i simboli della confederazione sono esattamente i simboli di questa tradizione lunga tradizione di suprematismo bianco come modo di concepire la società e di governarla in maniera fortemente autoritaria che quindi non ha bisogno di intrecciarsi diciamo con la tradizione culturale fascista con la quale sono d'accordo con lei condivide non pochi tratti però appartenendo a mondi linguaggi e culture abbastanza diversi quindi si può fare se volete un parallelo ecco però il termine non lo userei per loro sul primo questione verità costruite complotti percepiti inventati vissuti esagerati questo fa parte costitutiva di questo linguaggio in fin dei conti chi più anziano tra di noi ricorda il maccartismo il linguaggio del maccartismo quello è anche il linguaggio di un grande complotto una grande cospirazione comunista che abbraccerebbe buona parte dei funzionari pubblici o degli attori americani che se non era complottismo quello non so cosa fosse così come l'idea che questo suprematismo bianco agitava negli anni a cavallo tra l'ottocento e il novecento che l'arrivo di migranti dall'Europa meridionale o l'Europa orientale contaminasse il sangue bianco e puritano dell'America genuina cioè questa cultura vive di immagini cospirative di complotti e di un senso continuo di essere vittima di complotti più o meno inventati o sicuramente ampiamente esagerati e una parte costitutiva della loro cultura e del loro linguaggio senza ombra di dubbio ben prima dei social media grazie quest'ultima parte poi la trovo molto interessante molto stimolante perché è meno riflettuta da noi abitualmente resta un po' in ombra nelle nostre riflessioni vedo Cogliati che ha chiesto la parola prego Cogliati grazie grazie buonasera io sono piuttosto preoccupato e prima devo anche un po' capirla della politica estera che Biden sta sviluppando i tra virgolette nemici che si è trovato a dover scegliere Cina Russia e in Europa Turchia come pensa di come fa sta già facendo adesso vedo delle cose in Estremo Oriente sta mettendo insieme Giappone con con la Corea del Sud con l'Australia questi personaggi diciamo che lui cerca di mettere insieme mi parlo di capire forse anche intruppando l'India se riescirà sono personaggi abbastanza io adesso parlo da molto grossolanamente abbastanza chiari in Europa cosa può fare l'alleato che si trova ad avere in Europa è un'entità un po' un po' fluida non è anche fluida un po' divisa di non non uniforme quindi il tipo di azione che lui può fare in Europa per contrastare anche qua i programmi di Cina o di Russia e parlo di Europa poi parlo anche di Africa come può farlo con un alleato come siamo noi dico noi europei ma non riescono neanche a dire noi europei perché l'Europa non c'è ancora seriamente dal punto di vista estero quindi questo mi preoccupa molto cosa potrà succedere rischierà di lavorare in Asia e poi in Europa farà finta di lavorarci e poi abbandonarci come per esempio sta abbandonando adesso l'Afghanistan discorso un po' confuso magari ma grazie grazie ci sono altre domande nodo della politica estera risponde a questo intanto rispondiamo va bene c'è una chat c'è Mattia Mattia che ha chiesto la parola o vado errato si vedo Mattia da Mattia tutti io non niente allora prego a lei professore sì sì scusate prego dica sì buonasera prego no lei voleva un chiarimento comunque forse ho capito male io poi nella sua esposizione appunto in relazione al diciamo alla chiusura dell'esperienza presidenziale di Trump ero convinto che appunto ci fosse una parte cospicua del partito repubblicano che lasciasse Trump al suo destino cioè che non si riconoscesse nella politica portata avanti questi quattro anni da Trump e finita la sua esperienza che Trump poi fosse lasciato diciamo al suo destino cioè che si ha preso un filone giudiziario nei suoi confronti che determinasse diciamo la sua diciamo carriera politica come quella economica volevo da lei un parere un chiarimento in merito dunque allora cominciamo da questa seconda che forse più semplice più lineare io credo ci sia stato un momento molto breve e che si è rivelato poi illusorio in cui i vertici del Partito Repubblicano che poi sono i dirigenti del Partito Repubblicano al Senato al Congresso avessero di fronte la decisione se muovere contro Trump o no e quel momento è stato un momento dell'impeachment relativo all'assalto al Congresso e voi ricorderete che anche se fecero dichiarazioni in particolare Mitch McConnell che è il repubblicano di più alto grado nel Senato molto dure nei confronti di Trump per l'assalto al Congresso decisero fin dall'inizio di contrapporsi all'idea stessa di impeachment e poi di votare contro la messa in stato di accusa di Trump fatto questo la finestra se mai fosse stata effettivamente realistica per cui il Partito Repubblicano si potesse separare da Trump si è chiusa per sempre e si è chiusa perché perché loro hanno sentito che la parte più cospicua dell'elettorato potenziale dei repubblicani cioè l'elettorato conservatore li avrebbe espulsi mai più votati se andavano contro tratto e quindi hanno deciso di rinviare al futuro la resa dei conti diciamo col trumpismo nell'elettorato repubblicano ed è un futuro che non ci sarà più nel senso che l'occasione era quella passata quella il Partito Repubblicano si trasforma molto rapidamente nel partito di trump controllato dai trumpiani su scala locale come su scala nazionale in cui le voci non trumpiane verranno io credo rapidamente eliminate espulse o allineate messe in riga e quindi la questione non è più se il Partito Repubblicano si può liberare di trump ma in che misura trump e il trumpismo sapranno usare efficacemente il Partito Repubblicano come veicolo di una nuova affermazione elettorale o se questa diciamo radicalizzazione completa e compiuta dei repubblicani in senso trumpiano li porterà a circoscrivere ancora di più la loro presa elettorale cioè porterà quei pochi moderati che ancora votavano repubblicano anche sotto Trump ad allontanarsi da loro o se le politiche economiche di Biden cominceranno a mordere un po' in parti dell'elettorato popolare contrapponendogli un'altra forma di identificazione elettorale rispetto a quella bianca e conservatrice però l'idea che i repubblicani si potessero liberare di Trump c'è stata per un attimo brevissimo tra l'assalto al congresso del 6 gennaio e il processo per l'impeachment e aver votato contro l'impeachment gli ha tolto per sempre io credo questa possibilità il partito repubblicano a oggi è il partito di Trump sull'altro problema molto più complicato e su cui possiamo fare solo supposizioni io credo che ci siano componenti diversi ancora adesso nel modo in cui Biden sta costruendo una politica estera nel linguaggio che usa a volte emergono delle frasi delle forme che rimandano al linguaggio della guerra fredda lui stesso è cresciuto all'interno della guerra fredda è stato parte dell'establishment americano della guerra fredda quindi quello è parte del suo linguaggio democrazia contro dittatura noi come patria dei diritti civili di contro all'oppressione cinese in Hong Kong nello Xinjiang eccetera per non parlare di Putin però né Biden nei suoi sono come dire così in genio superficiali da pensare che il mondo di oggi sia uguale al mondo di 40 o 50 anni fa quindi io credo che loro stiano innanzitutto ricostruendo un ruolo internazionale attivo degli Stati Uniti di contro quel ruolo distruttivo e litigioso che c'è stato negli anni di Trump questo è il primo passo e quindi ricucire i rapporti con gli alleati aprirne con nuovi alleati l'India in particolare ritrovare un ruolo in cui gli Stati Uniti costruiscono coalizioni ed esprimono la loro forza e la loro influenza attraverso coalizioni attraverso organizzazioni internazionali istituzioni internazionali torno appunto che qualcuno di voi aveva toccato prima provino a ricostruire un sistema di coalizioni plurali ma connesse tra di loro in Asia e in Europa altrove che moltiplichino diciamo l'influenza e la forza statunitense in che direzione? Sicuramente nella direzione di contenere quelle forme di attività russa particolarmente diciamo irritante o pericolosa dagli attacchi informatici negli stessi Stati Uniti alle minacce sull'Ucraina alla presenza in Siria insomma ridimensionare un po' questo iperattivismo se volete militare espionistico eccetera della Russia ma soprattutto segnalare alla Cina che deve contenere le sue mire o le sue ambizioni dal punto di vista militare nell'area del Pacifico e dell'Asia dal punto di vista economico e tecnologico su scala globale come fare questo? Qui inizia il problema perché in parte sì si possono separare alcune delle aree che nella grande globalizzazione a cavallo tra il secolo scorso e questo si erano mescolate insieme si può ipotizzare una serie di aree soprattutto di alta tecnologia di nuove tecnologie in cui l'Occidente da una parte e la Cina dall'altra costruiranno sistemi di fatto separati dal 5G all'uso di internet a filiere tecnologiche nuove e ciascuno cercherà di vendere la sua in giro per il mondo quindi come dire aree più separate di quanto siano adesso ciascuno un po' più autosufficiente un po' più capace di costruire la sua crescita tecnologica e controllare le fonti principali dell'economia di oggi e di domani in un rapporto antagonistico quanto antagonistico questo io credo che Biden non lo sappia lui stesso così come nello sassi Jinping perché è una relazione e quindi dipende molto da come i due si relazionano c'è la potenzialità di un escalation sicuramente in particolare intorno a Taiwan intorno al controllo dei mari in quell'area del mondo vicino alla Cina dove le occasioni le scintille di un possibile conflitto che potrebbe anche diventare militare esistono però si può continuare a presumere che sia l'uno come l'altro siano in grado di controllare queste escalation e fermarsi prima di uno scontro militare però potrebbe anche succedere così come in tutti i decenni della guerra fredda il controllo c'era ma il rischio c'era anche quello lo sappiamo bene quindi quella sarà una delle dinamiche l'altra sarà quella di ricostruire un'immagine di quello che negli anni della guerra fredda si chiamava l'occidente adesso non lo chiama più nessuno così però fondamentalmente è quello esteso ad alcuni altri paesi più o meno alleati che più o meno si possono presentare identificare come democrazie in un universo diciamo anche simbolico culturale in cui democrazie diritti umanitari diritti umani e forme di collaborazione internazionale abbastanza simili a quelle del passato costruite dall'occidente si contrappongono a queste che vengono di volta in volta definite come autocrazie dittature paesi più espansionisti più aggressivi riusando appunto una serie delle metafore tipiche della guerra fredda però Biden e i suoi sicuramente sanno bene che la Cina non è l'URSS che è un'economia molto più grande molto più avanzata molto influente in giro per il mondo e che quindi è una partita che si giocherà probabilmente molto più su controllo economico investimenti tecnologie che non in chiave militare forse con la Russia è un po' diverso perché l'aspetto militare c'è un po' più spesso oggi in Ucraina magari domani in relazione alla Siria o ai paesi baltici ma io credo che siamo all'inizio di un processo naturalmente noi siamo portati a usare l'immagine della guerra fredda perché è quella che conosciamo è quella che tutti abbiamo in mente e che gli stessi protagonisti hanno in mente ma è improbabile che le cose si ripetano con grande somiglianza sarà una mescolanza di antagonismo per certi versi anche collaborazione o parallelismi separati che troverà una sua miscela fatta di volta in volta dalle relazioni che ciascuno dei protagonisti costruisce quindi per sua natura abbastanza imprevedibile con elementi di pericolo anch'io sono abbastanza preoccupato come lei ma anche con elementi sicuramente di controllo io credo di autocontrollo degli uni come degli altri spero almeno bene grazie penso che poi forse ci conceda ancora un ultimissimo giro dieci minuti possiamo ancora dieci minuti ancora di farti quello che dicevo vediamo se c'è ancora qualcuno che fa la domanda nessuno devo dire voglio io chiedere un chiarimento professore un punto che mi ha molto incuriosito in positivo dell'ultime vicende quelle dichiarazioni della Yellen mi hanno molto colpito la Yellen ha parlato Yellen ministro del tesoro ex presidente della fed allieva di Stiglitz prima allieva di Stiglitz non vado errato ha lanciato questi direi tassazione globale sulle multinazioni una cosa profondamente nuova eravamo più abituati a sentire questo linguaggio la cosa mi ha molto colpito poi ho ben capito come intende attuarlo però insomma lì c'è qualcosa di nuovo che sta fermentando lì dentro ed ero molto curioso di sentire il suo parere su questo se per caso ho capito qualcosa di più di quello che ho intuito e devo dire se pensi di queste cose se lì c'è qualcosa che si muove davvero in questa direzione sarebbe molto interessante questo sì io credo di sì perché io credo che ci siano due livelli diciamo a cui analizzare questo questo problema uno è un livello molto pratico cioè gli stessi Stati Uniti il governo degli Stati Uniti ha un problema paradossalmente abbastanza simile a quello che abbiamo noi o che ha la Francia o che ha la Germania cioè i colossi dell'economia globale i colossi privati dell'economia globale in particolare quelli che forniscono servizi digitali sono riusciti negli ultimi 30 anni a come dire muoversi nei vari interstizi di un'economia globalizzata aperta e poco regolamentata fino a costruire una loro pressoché totale fuga dal regime della tassazione no? sì Google sta in Irlanda e pretende che i servizi che vende a centinaia di milioni di cittadini tedeschi italiani francesi spagnoli eccetera eccetera siano sottoposti alla tassazione in Irlanda dove la tassazione delle grandi imprese è minimale oppure in Lussemburgo oppure altri lo fanno in Olanda altri lo fanno addirittura nei paradisi fiscali Cayman Island le Bahamas eccetera 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 ora questo è un enorme problema per noi come sappiamo se ne discute molto spesso come facciamo a tassare questi giganti digitali americani ora fino all'altro giorno fino a Trump incluso tutti i presidenti americani dicevano ferma noi difendiamo i colossi americani perché sono americani non vogliamo che gli europei impongano delle nuove tasse rispetto alle condizioni che c'erano quando sono andati a investire in Europa basandosi in Irlanda nel caso dei colossi digitali Biden ha cambiato questo cioè ha detto noi non difendiamo più su una base di nazionalità i colossi digitali americani da ipotesi di tassazione francesi o italiane o tedesche o della stessa Unione Europea ma cerchiamo un accordo insieme per imporre un livello minimo di tassazione al di sotto del quale nessun ciascun governo si impegna a non andare in modo da eliminare diciamo il colossale vantaggio che un'azienda può avere a insediarsi in Irlanda o piuttosto in Lussemburgo e in questo modo imponiamo un minimo di tassazione a tutte le imprese e al tempo stesso lui sta facendo una serie di misure di legislazione nazionale per rendere più difficile un'operazione che gli stessi Stati Uniti hanno patito cioè che le imprese americane trasferivano sulle loro aziende legalmente basate all'estero gran parte del fatturato e dei profitti che facevano in tutto il mondo Stati Uniti compresi quindi allo stesso governo degli Stati Uniti sfuggiva una parte di tassazione cospicua no? Allora siccome il nocciolo delle politiche economiche di Biden si incentra su un aumento della spesa pubblica e su una ridistribuzione di risorse attraverso la mano pubblica a diversi ceti sociali e settori economici americani ha sicuramente bisogno di una maggiore tassazione di queste imprese che sono sfuggite completamente alla tassazione ci sono dei casi che si leggono abbastanza spesso sui giornali clamorose cioè grandissime aziende tipo Apple Google o anche quelle più tradizionali nel petrolio eccetera alla fine dei conti riescono a pagare quasi zero di tasse al governo federale benché abbiano un fatturato che è l'equivalente di un paese di media grandezza no? Quindi questo è l'aspetto empirico pratico hanno bisogno di soldi loro dalla tassazione di questi colossi che sono di fatto sfuggiti alla tassazione negli ultimi anni tanto quanto ne abbiamo bisogno noi l'altro aspetto è che c'è sicuramente in atto un cambio di mentalità un cambio di paradigma se volete un cambio di cultura economica profonda che si riflette appunto nelle parole di Ellen ministro del tesoro e di molti altri funzionari o commentatori o esperti che si stanno allontanando appunto dall'idea che ha dominato negli ultimi 40-50 anni di un mercato sostanzialmente lasciato libero ad una regolamentazione sempre meno stringente anzi via via più deregolamentato come fattore di crescita economica in favore di un'idea che ormai sta almeno nell'area chiamiamo democratica in politica se volete progressista o centrista in termini culturali all'idea cioè che un intervento pubblico sotto forma di investimenti di regolamentazione di tassazione di ridistribuzione di risorse dentro la società sia necessaria per lo stesso funzionamento dell'economia di mercato e per gli altri scopi di politica internazionale di ricostruzione di una coesione e identificazione democratica nella società che sembrano e sono vitali quindi sì c'è in corso io credo un cambiamento proprio di mentalità e di cultura economica e non solo economica del rapporto diciamo tra beni pubblici e beni privati tra obiettivi pubblici e obiettivi privati tra mercato e stato che investe anche figure come Yellen che sono state parte dell'establishment economico che nel corso degli ultimi decenni erano molto più spostati su posizioni favorevoli al mercato quanto a lungo andrà quanto avanti andrà quanto profonda sarà questa ridefinizione diciamo della cultura economica preminente non lo so lo vedremo però sicuramente diciamo i 40 anni di grande egemonia culturale liberista cominciati con Reagan quelli sono finiti io credo che cosa gli succede lo vedremo però si va in un'altra direzione questo sono assolutamente d'accordo grazie molto molto interessante devo dire sono proprio d'accordo anch'io con questa valutazione vediamo se abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno vuole aggiungere qualcosa approfittare perché francamente l'esposizione della professione è stata splendida straordinaria con chiarezza e tutto se non ci sono altre domande a nome di tutti voglio ringraziare professor Romero grazie mille grazie a voi anche per questa occasione in realtà va bene ci stanno intensificando quindi ne avremo di altre in futuro ne avremo altre ora bene grazie grazie mille professore alla prossima occasione grazie 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 buona serata buona serata grazie